Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 stanotte, in orario 22.6, chiuso per lavori nella galleria Poggio Civitella, il tratto tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Firenzuola in direzione Firenze. Chiusi anche lo svincolo di Badia in direzione Firenze e l'uscita di Firenzuola provenendo da Bologna. In FIPILI si segnalano lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!